Dopo la pausa estiva torna East Market, il mercatino vintage di Milano a Lambrate, dedicato ai privati, dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. La nuova edizione parte domenica 17 settembre con oltre 250 espositori e collezionisti da tutta Italia, con migliaia di articoli nuovi e usati, tra vintage, artigianato e collezionismo. Negli oltre 6.000 metri quad espositivi dell'ex fabbrica di Lambrate sarà presente una selezione di abbigliamento usato, vinili, arredamento, raccolte private, accessori e altro ancora.